Dal grano alla farina, dal tipo di legna usato nei forni fino al prodotto finale, la regione Campania insieme con l'Associazione dei Panificatori scende in campo per tutelare un settore che rappresenta una fetta importante dell'economia regionale. Alla luce dei recenti casi di pane prodotto da laboratori non a norma e che inevitabilmente hanno gettato diverse ombre su tutto il comparto, l'ente di Palazzo Santa Lucia ha approvato recentemente una legge regionale che ha l'obiettivo di tutelare il commercio dei forni legali e contrastare quelli abusivi, come spiega l'assessore alle attività produttive della Campania, Fulvio Martuscello. Troppo spesso in questa regione assistiamo a un commercio di pane illegale, che significa un pane che naturalmente non rispetta i standard di qualità e di sicurezza e che soprattutto naturalmente alimenta il mercato nero e quindi alimenta la criminalità organizzata. Con queste norme tutto questo non sarà più possibile, quindi noi diamo una mano a chi lavora, a chi paga le tasse e a chi quotidianamente produce un alimento di qualità. Al lavoro svoltosi in qui per tutelare produttori e consumatori si aggiunge anche una nuova proposta di legge presentata dal vice capogruppo del PD in consiglio regionale Antonio Marciano, il quale ha spiegato che la necessità di un'ulteriore legge sulla panificazione nasce dall'esigenza di rafforzare adesso le misure contro i produttori abusivi che sottraggono ai forni onesti circa 500 milioni di euro ogni anno. La Campania è un primato, è la prima legge in Italia ad essersi dotata di una scelta che è quella della tracciabilità dell'imbustamento del pane. Adesso continuiamo, io ho depositato proprio l'altro ieri un'altra proposta di legge che è valorizzazione e tutela del prodotto finale del pane ma anche delle materie prime, la tracciabilità degli ingredienti necessari alla produzione del pane.